Sono 31 i comuni abruzzesi chiamati al voto domani per l'elezione dei sindaci e i rinnovi dei consigli comunali per un bacino di quasi 175 mila elettori. La provincia maggiormente coinvolta, numeri alla mano, è quella di Teramo nella quale sono chiamati alle urne i cittadini della città capoluogo e di altri tre comuni sopra i 10 mila abitanti, Silvi, Albadriatica e Atri. Teramo e Silvi sono anche i soli due comuni con il doppio turno e dunque con la possibilità di andare al ballottaggio del prossimo 24 giugno tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze qualora al primo turno nessuno di loro abbia raggiunto il 50% più uno dei voti. A Teramo e Bagar tra sette sfidanti. Dopo la brusca chiusura del mandato di Maurizio Brucchi il centrodestra si ripresenta con l'ex assessore regionale Giandonato Morra appoggiato da sei liste tra cui Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Gattiana Futuroin. Sempre sul fronte di ispirazione centrodestra in corsa un altro ex assessore regionale Mauro di Dalmazio liste al centro per Teramo e azione politica e Alberto Covelli popolari con Teramo e Abruzzo insieme. I 5 Stelle lanciano la loro sfida per palazzo di città con Cristiano Rocchetti sull'area di centro-sinistra vi sono Gian Guido Dalberto che ha l'appoggio ufficiale del PD e delle altre liste insieme possiamo Teramo 3.0 e Teramo vive. Giovanni Cavallari candidato sindaco per la lista Bella Teramo e Paola Cardelli candidata della sinistra per Teramo. A Silvi invece sono quattro gli sfidanti ci riprova Francesco Comignani del centro-sinistra il cui mandato si è concluso ad aprile dell'anno scorso quando la metà più uno dei consiglieri comunali protocollarono le dimissioni facendo decadere l'amministrazione che era a metà del suo percorso ad appoggiarlo tre liste democratici per Silvi, Silvi ripartiamo e obiettivo Silvi. Volti nuovi sono quelli di Andrea Scordella e Simona Stolfi. Scordella rappresenta il rinnovamento del centro-destra Silvarolo che affronta compatto la sfida con le tre liste di riferimento Forza Italia, Lega, Frateri d'Italia più la civica idea. A Stolfi è la candidata del Movimento 5 Stelle che punta al colpaccio se i risultati delle comunali non si discosteranno tanto da quelli eclatanti delle politiche del 4 marzo. Antonio Del Vecchio è il candidato della sinistra con le liste Silvi in comune e Giovani in comune. Sfida l'ultimo voto ad Atri ed Alba Adriatica. Nel Comune Ducale il centro-destra punta la riconferma e dopo i due mandati di Gabriele Stolfi si affida al vice sindaco uscente Pier Giorgio Ferretti che dovrà guardarsi dall'assalto del centro-sinistra che schiera Ugo Giuliani e del Movimento 5 Stelle che propone Massimiliano Concetti. In piena corsa anche la lista atricivica con Gianmarco Marcone. Ad Alba Adriatica non ci sarà mandato bis per l'uscente Tonia Piccioni sfida a quattro tra Giuliano De Berardinis, Antonietta Casciotti, Gabriele Viviani e Remo Saccomandi. Così come sfida a quattro sarà a Montori Alvomano tra l'ex vice sindaco Andrea Guizzetti, l'ex assessore della giunta di Giambattista Marco Citerei e poi Egno Facciolini e Riccardo Panzone. Si vota anche a Notaresco, Civitella del Tronto, Nereto, Controguerra e Castilenti. La seconda provincia più rappresentata è Pescara. Il comune più popoloso c'è Pagatti dove concorrono in quattro Domenico Di Meo, Daniele Fiucci, Gino Cantò e Claudio Orsini. A Loreto, Pianella e Bussi Sul Tirino gli uscenti puntano al bis. A Pianella Sandro Marinelli se la vedrà con Gianni Filippone e Federica Fedele. A Loreto Prutino Gabriele Starinieri sarà sfidato da Remo Giovannetti e Antonello Delle Monache. A Bussi Sul Tirino Salvatore Lagatta andrà al testa a testa con l'ex presidente della provincia di Pescara, Pino De Dominicis. Si vota anche a San Valentino in Abruzzo Citeriore, Nocciano, Roccamorice, Pietranico e Turri Valignani. Comuni marginali dal punto di vista della popolazione nelle province dell'Aquila, sette amministrazioni da rinnovare, la più popolosa a San Benedetto dei Marsi con quasi 4.000 abitanti e in quella di Chieti cinque amministrazioni da rinnovare, Torino di Sangro, Villa Santa Maria, Frisa, Pizzo Ferrato e Fallo.